Il Barletta domina ma non riesce a ritrovare il successo. Davanti ai quasi 5.000 del Puttilli termina 1-1 la divertente sfida tra i Biancorossi e la Nocerina, un punto che probabilmente non accontenta nessuna delle due squadre, protagoniste entrambe seppur in maniera diversa di una buona prestazione. In cronaca, al secondo subito la prima grande chance per il Barletta. Cross di Loiodice dalla sinistra per Rasterletti che mette fuori. Al nono è ancora Loiodice a seminare il panico. Il fantasista Biancorosso penetra ma conclude sul palo esterno, complice la deviazione di Sakos. Il Barletta costuisce ancora sui suoi piedi. Al tredicesimo Rasterletti trova i guantoni del portiere Rosso Nero. Al ventesimo però passa la Nocerina. Basani si sfrutta una disattenzione della difesa Biancorossa insaccando alle spalle di Pier Santi. Reazione rabbiosa del Barletta. Loiodice si accentra ma Stagos è reattivo. Trentaseiesimo ci prova vicedomini dalla distanza. Palla fuori. Nella ripresa il copione non cambia. Al cinquantunesimo il nuentrato Russo trova la testa di Pignataro ma la palla finisce a lato. Al cinquantasettesimo Russo appoggia per Lattanzio che però non impensierisce Stagos. Sessantatresimo minuto. Miracolo del portiere Rosso Nero che mostra i riflessi sul colpo di testa di Petta. Sul conseguente corner Pignataro in girata centra la traversa. Al sessantaseiesimo vicedomini dalla bandierina. Serve Russo che manda alto. Settantesimo quello del Barletta. È un assedio. Cafani approva la corbazia sfiorando la rete. Al settantasettesimo arriva il tanto atteso pareggio. Russo sfrutta un rimpallo stoppando e calciando direttamente all'incrocio. Questa volta il portiere Rosso Nero non può nulla. Allo scoccare del novantesimo la noceghina asciupa il gol vittoria. Da un calcio d'angolo Magri spizza la sfera per De Marino che ha da due passi. Spreca clamorosamente. Vani tentativi finali del Barletta. Pur dominando i biancorossi trovano il secondo pareggio consecutivo. Domenica prossima sfida delicatissima a Casarano.